Con tutto questo potere, con tutti questi soldi, con tutto il tuo orgoglio, con tutta la tua vanità, non sarai felice. Nessuno può portare con sé, dall'altra parte, nei soldi, nel potere, nella vanità, nell'orgoglio, niente. Soltanto possiamo portare l'amore che Dio Padre ci dà, le carezze di Dio accettate e ricevute da noi con amore. E possiamo portare quello che abbiamo fatto per gli altri. Attenzione, non mettere speranza nei soldi, nell'orgoglio, nel potere, nella vanità. Questo non posso prometterci niente. Grazie. 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 Grazie.